Dopo qualche giorno torniamo ad occuparci dei numeri di Covid-19 in Lombardia. Lo facciamo con le slide che abbiamo imparato a conoscere durante queste settimane. Numeri positivi per quanto riguarda i recovery in terapia intensiva. Vedete anche quest'oggi c'è un meno 34, chiedo scusa, per quanto riguarda i recovery in terapia intensiva che ormai sono scesi poco sopra gli 800. Ricordo che intorno al 3 aprile si è arrivati a sfiorare quota 1.381 i recovery in terapia intensiva. Quindi questo è un dato che sicuramente fa guardare con ottimismo. Parleremo dopo di cosa significa avere meno posti in terapia intensiva per gli ospedali. Diamo un'occhiata anche a quelli che sono i decessi. Si scende sotto quota 200 andando a toccare quota 161. Sempre tanti ma rispetto ai giorni in cui ne avevamo pianti oltre 500 è chiaro che il dato è sicuramente più positivo. Non scende però abbastanza questo dato dei decessi. Come non scende abbastanza la curva dei nuovi casi positivi a Milano? Come vedete il plateau cosiddetto, cioè l'appiattimento della curva è stato raggiunto ormai da più di 10 giorni, però c'è questo continuo saliscendi. Una spiegazione può essere il fatto che finalmente sono stati effettuati tanti tamponi nelle RSA e questo potrebbe essere la spiegazione di questi tanti nuovi casi positivi. Triste spiegazione perché significa che le RSA, ma lo sapevamo purtroppo, sono tra i punti più vulnerabili e anche più colpiti da questa calamità di Covid-19 e sono i punti su cui bisogna lavorare di più. Con grande gratitudine per tutti coloro che vi hanno lavorato e vi stanno lavorando perché lo stanno facendo da settimane inizialmente senza dispositivi, senza indicazioni precise e rischiano di venire quasi criminalizzati di fronte al fatto che sia entrato Covid-19 nell'RSA e abbia fatto tutte queste vittime. C'è da capire perché questo sia accaduto, perché non si siamo protetti dall'RSA, ma gli operatori dell'RSA, i medici, gli infermieri, gli ausiliari, devono essere ringraziati. Dopo bisogna capire le responsabilità, ma ribadisco, chi ci lavora deve avere tutta la nostra stima. Dicevo prima delle terapie intensive, c'è un altro ragionamento da fare. C'è un ospedale pronto, praticamente vuoto, con una decina o poco più di pazienti che l'ospedale, o il cosiddetto ospedale, la struttura a disposizione in Fiera Milano. In Fiera Milano ci sono quasi 200 posti di terapia intensiva. Fontana aveva detto all'inizio del mese di marzo che questo sarà il nostro modo per vincere l'epidemia. In realtà quell'ospedale non è servito. C'è da rallegrarsi del fatto che non serva un ospedale, perché vuol dire che non ci sono i malati. Però c'è da chiedersi che utilizzo verrà fatto adesso dell'ospedale in Fiera. E lì è una struttura imponente, all'avanguardia da ogni punto di vista, sia sanitario, sia informatico, sia logistico. E adesso bisognerà capire però che utilizzo farne. È costato circa 21 milioni. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, non si riempirà di pazienti, anche se può essere una bella modalità con cui magari ripulire gli ospedali e portare lì i malati Covid. Più probabilmente rimarrà lì per capire se ci saranno nuovi focolai, una nuova recludescenza dell'epidemia. Quando si riaprirà, speriamo tra qualche settimana, gradualmente. Oppure in autunno, quando c'è il rischio che possa arrivare una nuova ondata di epidemia. Sta di fatto che è lì quell'ospedale. L'idea iniziale di Fontana si è dimostrata sbagliata, altro che non ho sbagliato niente, come ha dichiarato ancora oggi al Corriere. Perché? Perché non è servito quell'ospedale. Però l'ospedale è un investimento e non verrà certo smantellato domani. Poi potremmo discutere, si doveva fare o non si doveva fare. Di sicuro i 600 posti annunciati da Fontana erano una follia e tale si sono dimostrati. Adesso c'è questa struttura e bisogna avere un progetto per utilizzarla. E questo è il problema della regione Lombardia. In queste settimane e ancora oggi non ha progetti di breve, media o lunga scadenza. Fa grandi annunci, grandi conferenze stampa, ma di progetti pochi. Ed è il problema di questa regione. Una regione senza progetti non va da nessuna parte. Situazione complicatissima quella che abbiamo vissuto. Drammatica. Però il tema è che abbiamo rincorso, anzi hanno rincorso il virus per troppe settimane e tuttora, lo si è visto anche con la slide relativa ai casi di Milano, non si sa bene dove sia questo virus, dove si sia annidato Covid, perché ci sono 480 nuovi casi positivi nella giornata di ieri e tra ieri e oggi dunque a Milano e bisognerebbe capire da dove derivano questi casi, cosa che al momento non è possibile. È complicato ripartire senza questi elementi. Poi giusto, si parli di test sierologici, si parli di tamponi che devono continuare a essere fatti, di tutto quello che volete. Ma se non capiamo quello che è successo e cosa sta succedendo, è davvero complicato ripartire. Per questo noi abbiamo chiesto una commissione di inchiesta in Regione Lombardia per capire che cosa è successo, che cosa non ha funzionato, perché non tutto è andato bene in Lombardia, diciamocelo, e sulla base di quelle considerazioni costruire un progetto sostenibile di sanità per il nostro prossimo futuro ed essere pronti nel caso in cui un'epidemia come Covid-19, che rimarrà tra noi purtroppo, possa rialzare in qualche maniera la testa. Progettare, progettare bene e soprattutto capire che cosa non ha funzionato. Presidente Fontana se ne faccio una ragione, dobbiamo ragionare su questo, non semplicemente dire che in Lombardia abbiamo fatto il meglio che potevamo, anzi tutto è andato bene, così non è stato.